Iarico Addisti, Box, Ostiglio Mobili, KTM Farioli, Andrea Cesari, ricordiamo è il pilota italiano che difende i colori italiani nel campionato europeo 2012, praticamente l'unico e ovviamente si presenta anche per il campionato italiano. Grande Andrea, ti avevo visto in crescita costante, ti avevo visto in questo italiano, sei partito nella QX1 Master, quella dei grandi campioni, e ti avevo visto scontrarti qua come ti tocca scontrarti all'europeo. Grande Andrea, il livello professionale dell'italiano è cresciuto? Raccontaci qualcosa. Penso che quella gara qua sia una gara di europeo, perché non sono tutti i piloti, ma i piloti che vanno forza l'europeo. Schreiber, Zimmerman, Montalbini, Cesari. Penso che però non sia tutto il campionato così, penso sia la prima gara che c'è un po' di gente. Quando sono liberi, a seconda dei loro campionati nazionali, se sono liberi verranno. Però penso che sia una gara così, l'evento della prima gara che ha portato tanta gente, però penso che via via con le gare la gente che vada forte diventerà un po' di meno. Andrea, abbiamo visto una tua forma fisica spettacolare rispetto all'anno scorso, molto più massa muscolare, maggiore controllo del mezzo, maggiore scioltezza. C'è anche una maggiore aggressività nella gestione del mezzo, ne sei più padrone. Diciamo che hai fatto un grande gradino rispetto all'anno scorso. Andrea, Cesari sul cancelletto di partenza. Facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto a Nicola. Cosa guarderà Andrea, Cesari? Arturo, la mano fa quando ti cassa. Come niente, Andrea? No, non guarderò niente. Manciate di gas e basta. Sono concentrato solo di me e vediamo cosa succede. Andrea, sei un grande. Complimenti per le qualifiche, hai dimostrato di essere all'altezza dei più grandi campioni europei, come d'altronde fai ogni domenica, ogni appuntamento internazionale. Ti aspettiamo dopo gara 1 per un tuo punto di vista, un tuo riassunto della gara stessa. In bocca al lupo e di nuovamente complimenti per la prestazione che hai eseguito nelle qualifiche. Grazie mille. Grande Andrea. Ciao ragazzi.